si ricorda di me vecchio? certo che mi ricordo allora si ricorda che mi ha paccato solo una volta nel nostro rapporto quando mi ha venduto quell'erba lei me ne dava sempre tre per 30 euro poi ha iniziato a darmene cinque ma perché? perché quella volta era un rigano e non valeva proprio niente già un rigano era piuttosto buono come rigano ma come vede me ne sono accorto e adesso sono qui commissario dei carabinieri vede quello rigano era una vera merda ripugnante ora mi ha arrestato quindi fatene affanculo